Prima di iniziare vi rubo proprio due minuti, in descrizione c'è il link del mio nuovo canale telegram dove potrete rimanere sempre aggiornati con quello che pubblico e ovviamente c'è anche il link per accedere al canale telegram riservato agli abbonati di Twitch Io vi dico solo una cosa, scaricate, andate lì, attivate il bot, entrate, fate tutto perché lunedì potrebbe esserci una sorpresa, vi dico solo questa, ne parleremo lì Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata di Vendiamo o Teniamo La prima è andata molto bene e vi ringrazio e quindi vi chiedo di replicare i commenti, le visualizzazioni, i mi piace e soprattutto i ragionamenti che stanno alla base di quella che deve essere la costruzione della Juventus dell'anno prossimo e quindi dopo aver analizzato quelle che sono le scelte, le preferenze dei tifosi, lato allenatore, lato portieri e lato difensori centrali oggi andiamo a concentrarci su due veri e propri punti deboli della Juventus da qualche anno a questa parte e cioè il centrocampo e i terzini Ci saranno diverse cose da dire, vi siete veramente scatenati prima di iniziare però ci tengo a rispondere a un paio di commenti che mi sono trovato sotto l'altro video qualcuno mi diceva è normale che ci siano certe risposte perché le persone che ti seguono pensano come te allora sicuramente tante persone che si rivedono e si rispecchiano nei miei umori, nei miei ragionamenti potrebbero essere indotte a dare un certo tipo di voto proprio perché la pensano magari come me ma io quando non ho mai cercato di dare il pensiero unico a nessuno ho sempre lasciato libertà di espressione, di opinione, di pensiero c'è sempre stata libertà di discussione sotto tanti punti di vista e anzi il mio obiettivo qui su YouTube nel parlare di Juventus è proprio questo non schierarmi soltanto in una direzione ma cercare sempre di analizzare quelli che sono i pro e i contro di ogni situazione per cercare di capire a 360 gradi come sono fatte le cose quindi mi dispiace sentire che qualcuno mi possa venire a dire che questi video sono incoerenti perché rispecchiano il mio pensiero perché la mia community è formata da persone intelligentissime in grado di ragionare con la loro testa e che hanno tante tante posizioni differenti poi il fatto che ci siano magari percentuali più alte questo è un altro discorso iniziamo subito, vediamo che cosa ci aspetta Alexandro, vi avevo lasciato proprio qua l'ultima volta e qualcuno era già pronto a dirmi eh, Alexandro, insomma, che cosa ne facciamo di Alexandro? vabbè ragazzi, non giriamoci troppo attorno penso che sia abbastanza scontato, no? abbiamo il 96% di vendiamo qua veramente è un plebiscito assoluto nei confronti del terzino brasiliano che secondo me ha fatto anche tantissime buone stagioni alla Juventus ma dopo sette anni credo proprio che sia giunto il momento di cambiare di dare una rinnovata sotto quel punto di vista perché comunque Alexandro anche in questa stagione è sembrato un giocatore non più decisivo magari come era una volta e anzi sembra veramente arrivato alla fine della sua corsa in maglia bianconera non so chi siano sinceramente quei 368 furbacchioni che hanno messo di tenere Alexandro magari sono tifosi di altre squadre, non lo so oppure tifosi della Juventus davvero innamorati così tanto di Alexandro non condivido questa posizione però credo proprio che la Juventus farà di tutto per cercare di cedere a Alexandro anche se nelle ultime ore si sta parlando addirittura di un ultimo anno di Alexandro per farlo arrivare a scadenza naturale del contratto al 31.023 ecco, non sarei esattamente d'accordo penso che anche il popolo Juventus sia espresso a riguardo poi c'è Danilo, è un giocatore particolare Danilo perché appena arrivato il primo anno con Sarri io non ero uscito a inquadrarlo, anzi non mi piaceva per niente poi trapirlo e quest'anno con Allegri mi è piaciuto tanto e penso che sia una cosa diffusa infatti qua abbiamo esattamente il sondaggio inverso rispetto a quello che abbiamo avuto con Alexandro abbiamo il 92% di preferenze sulla permanenza in rosa di Danilo io credo proprio che uno come Danilo faccia il caso della Juventus possa essere anche uno di quei giocatori dai quali ripartire già in questa stagione poi ovviamente è un classe 91 quindi non è più giovanissimo sta iniziando ad andare in una fase di carriera abbastanza in calo sta iniziando a calare ovviamente quando si supera la Trentina è così però nel futuro immediato della Juve io Danilo lo vedo ancora e sono contento di sapere che comunque è una visione diffusa abbiamo De Sciglio ecco qua invece sono rimasto abbastanza sorpreso perché non voglio girarci tanto intorno vi butto nudo e crudo quello che è il risultato del sondaggio wow allora vi dico subito che ho ricevuto addirittura dei messaggi in privato da parte di alcuni miei amici che mi mandavano questo screen e mi dicevano sul serio? davvero? ebbene sì su Instagram avete votato al 63% sulla permanenza di Mattia De Sciglio alla Juventus il 37% invece vorrebbe venderlo ora non so se questa è la volontà o la sensazione la percezione io di solito quando faccio questo tipo di video mi aspetto che dall'altra parte ci sia proprio una valutazione un'opinione vorrei tenere De Sciglio sì o no? se lo voglio tenere dico che lo dobbiamo tenere se voglio vendere lo dico che lo dobbiamo vendere quindi non penso che sia lungo il discorso del rinnovo che dovrebbe arrivare tra l'altro questo dovrebbe essere l'ultimo calciatore rinnovato dalla Juventus in questo finale di stagione dato che anche lui al 30 giugno 2022 andrà in scadenza di contratto io capisco l'esigenza di avere anche delle riserve si poteva fare qualcosa di diverso si poteva andare sul mercato per un altro profilo si poteva mettere un giorno al posto di Sciglio la risposta è sì a tutte mi stupisce il fatto che l'anno scorso sia stato dato in prestito e che quest'anno venga rinnovato a scadenza di contratto ma tant'è probabilmente è stata una scelta dell'allenatore una richiesta dell'allenatore vediamo dato che sarà un rinnovo al ribasso non penso che ci saranno particolari problemi però mi ha sorpreso non pensavo di vedere una percentuale così alta inerente alla permanenza di De Sciglio sono sincero io sono dell'idea che al ribasso possono rinnovare o andare senza problemi un po' tutti però dirvi che sono innamorato di De Sciglio calceticamente vi direi una bugia dire che è un'ottima riserva invece quello ve lo dico penso che il problema non sia tanto De Sciglio quanto più il fatto che lui sia costretto tutti gli anni a giocare più partite di quelle che dovrebbe giocare quindi credo che si debba anche iniziare a ragionare in ottica smaltimento di giocatori che hanno già dato in quella posizione di campo per cercare dei profili più idonei e titolari cioè non il fatto che se gioca De Sciglio gioca Alessandro mi cambia poco e infatti poi andiamo a Luca Pellegrini che è sempre un nome chiacchierato è sempre un nome in cui c'è un po' di incertezza io non sono sicuro che rimarrà nella rosa di Juventus a me Pellegrini è piaciuto quest'anno devo dire la verità e penso anche a voi vedendo un po' quella che è stata la vostra opinione il 94% di preferenze sul teniamo vediamo se sarà effettivamente così io ve lo dico ho qualche dubbio non so se la Juventus sta ragionando nella stessa maniera però vediamo anch'io io sono per il tenere Luca Pellegrini assolutamente magari non come titolare ma come riserva secondo me è un'ottima riserva è un ottimo ragazzo e può fare ancora qualcosa di buono al suo secondo anno bianconero e allora vi chiedo in generale qual è la vostra opinione sul reparto terzini della Juventus e se mi avete detto questo buona stagione tranne Alexandro beh possiamo anche riassumerlo all'osso abbiamo saputo approfittare dei giocatori che non pensavamo di primo piano ma alcuni li cambierei sono d'accordo Simo lasciamo perdere ecco questo è mi fa sempre ridere perché c'hai ragione o arriva uno a sinistra forte un altro giovane non ha senso meglio Pellegrini è vero se devo scegliere tra Alexandro e Pellegrini l'anno prossimo mi tengo Pellegrini a riserve siamo messi bene mancano i titolari e dubito che ne arriveranno due questa è una presa di coscienza oggettiva e veritiera lo sappiamo buoni ma non troppo sì Pellegrini e Danilo sì Alexandro non ha deciglio così così ecco anche questo mi piace come raffigurazione i giovani senza un'ombra di dubbio sono i migliori e mi piacerebbe sapere chi sono i giovani qui in mezzo dato che Alexandro e Danilo sono dei 91 dei sciglio in 92 e l'unico giovane è Pellegrini ma gli altri insomma giovani una volta magari ve lo dico da quasi trentenne e poi passiamo ai centrocampisti l'altro reparto sempre preso in esame in considerazione da parte dei tifosi nel mirino della critica da parte dei tifosi e quindi Locatelli prima stagione alla Juventus 96% di Teniamo io sto leggendo tanti che non sono soddisfattissimi della stagione di Locatelli capisco che ci sia stata una flessione nel finale ma secondo me per essere la prima stagione di Locatelli alla Juventus siamo andati molto bene infatti non me ne priverei ora c'è un grande punto interrogativo lo vogliamo davanti alla difesa o lo vogliamo a mezzala e qua bisognerà darsi una risposta in tempi brevi vedendo cosa si sta facendo sul mercato e quindi trattando Pogba immagino che si voglia lasciare Locatelli come pivot però queste sono considerazioni che deve fare lo staff tecnico poi abbiamo Zaccaria che è l'ultimo centrocampista arrivato all'interno della batteria della Juventus l'abbiamo visto ancora poco poi ha avuto anche qualche infortunio quindi penso che bene o male l'esito sia questo un po' per tutti 98% di Teniamo 98% è altissimo ragazzi quasi 10.000 voti 10.000 voti non sono pochi che vanno tutti in quella direzione solo 187 voti sulla vendita equivalenti al 2% Zaccaria forse è quello che sta mettendo più d'accordo tutti i tifosi della Juventus e quindi sì teniamolo anche perché penso che non sia nemmeno in discussione la sua partenza Weston McKennie ecco McKennie è uno di quelli chiacchierati del tipo si potrebbe cedere perché vale qualche cosa e quindi potremmo reinvestire questo denaro in un altro profilo quindi occhio monitoriamo la situazione McKennie perché potrebbe scoppiare da un momento all'altro io sono per il tenerlo pensavo che ci fosse una percentuale più bassa di Teniamo perché non mi sembrava un profilo particolarmente apprestato da tutto il popolo juventino io ritengo McKennie un giocatore con delle caratteristiche uniche all'interno della rosa della Juve tant'è che quest'estate addirittura Allegri non ne parlava in chiave centrocampista ma forse più trequartista addirittura punta se lo immaginava un giocatore molto offensivo è stata una perdita con purtroppo il brutto infortunio con il Villareal che ci ha fatto sentire la mancanza di un giocatore come lui devo dire la verità sono contento che sia tornato infatti domani dovrebbe giocare contro la Fiorentina adesso sentiamo che cosa dice Allegri potrebbe ritornare in campo ecco magari non da titolare però dovrebbe essere a disposizione il maghetto Harry Potter è ben voluto dal popolo bianconero e poi iniziamo allora qua mi metto comodo perché so che cosa sta per succedere Adriel Rabiot spesso subito una lancia a favore di Rabiot quest'anno è stato uno dei pochi giocatori a esserci sempre a non farsi mai male a non essere mai indisponibili e questo non è poco all'interno di questa Juve dall'altra parte se ragioniamo sotto il punto di vista del livello del calciatore io mi rivedo nel 59% di persone che vorrebbero un allontanamento di Rabiot dalla Juventus però anche qui attenzione io non pensavo che ci fosse questa spaccatura non dico netta ma quasi perché comunque stiamo parlando di 60-40 quindi non c'è proprio un pensiero preciso non c'è uniformità di giudizio no non è così il popolo è spaccato e quindi c'è questa a parte che la faccia di Rabiot in questa foto mi fa riderissimo però c'è questo dubbio legato ad adere Rabiot e vorrei capire da parte di chi vorrebbe tenerlo il motivo per cui vorrebbe tenerlo e spero che non sia solo il non sia mai fatto male ma che ci possa essere anche qualcosina di più ultimo calciatore che andiamo a prendere in considerazione in esame in questo video è il brasiliano Arthur giocatore che sembra essere in uscita la Juventus sta parlando un po' all'estero specialmente in Premier League dove l'Arsenal è sempre interessato dato che Arthur era un giocatore in uscita anche a gennaio io a gennaio ve l'avevo detto terrei Arthur perché già siamo messi male a centrocampo sediamo via anche lui è un problema è ovvio che in orbita calcio mercato estivo e quindi nuova stagione e quindi quasi rifondazione Juve vedendo un po' quello che sta succedendo Arthur è uno di quelli che metto tranquillamente nella lista dei partenti perché purtroppo non ha reso secondo i miei canoni o secondo quello che avevo in testa e vediamo un attimo è infatti è infatti l'81% dei tifosi della Juventus che hanno votato all'interno di questo sondaggio hanno scelto l'accessione di Arthur non andare avanti insieme e quindi tre centrocampisti confermati Locatelli McKennie Zaccaria Arthur Rabiot invece ai saluti perché non non sono più giocatori probabilmente dei quali vi fidate io sono abbastanza d'accordo con questa visione di insieme poi rimane sempre il discorso legato a McKennie perché è ovvio che se arriva Pogba e poi mi dicono guarda potremmo fare una follia e quindi prendere anche Milinkovic già ieri sera Moggi ha twittato Milinkovic e ci sono impazzito non so perché non so per come ma se dovessero voler fare questa follia però dicono c'è la necessità di cedere McKennie beh lo faccio tranquillamente senza problemi e quindi il vostro giudizio generale sui calciatori sui centrocampisti della Juve è il seguente un buon centrocampo gli speriamo che il prossimo anno con qualche eccessione di inserimento dei giovani ecco questo è un tasto che mi preme tantissimo io vorrei vedere almeno uno dei ragazzi che abbiamo in mano perché Rovella Fagioli Miretti Ranocchia possiamo metterci anche Nicolussi Caviglia sono tanti profili interessanti di proprietà Juventus almeno uno lo sogno in prima squadra se non due anzi almeno uno lo pretendo lo esigo proprio lo voglio ok non si dice ma lo dico e il sogno averne due veramente sarebbe bellissimo serve una figura che spicchi che porti molti bonus Pogba Meningo mi savi poi dei colpi di tosse che non capisco per quale motivo anche qui da rinforzare ma è inutile prendere tanto per fare numero serve qualità superiore sottovalutato ma ci vuole il colpo da 90 e poi il polpo ragazzi se vai in quella direzione penso che anche la Juve se ne si accorta che non vale più la pena inserire profili tanto per e allora buttiamoci dentro i nomi di quelli che davvero potrebbero fare la differenza potente ma non troppo più scarso della storia magari no perché me ne ricordo uno con Paul Santiago al Miron quindi lo darei a loro la palma d'oro di più scarso della storia migliorare però da gennare con Zaccaria è migliorato c'è ancora tanta strada sono d'accordo ecco discreto secondo me discreto rabbio Locatelli inguardabile ecco non sono d'accordo su Locatelli inguardabile McKennie Arturo e Zaccaria buoni ma non eccellenti io terrei più Locatelli rispetto ad Arturo però ovviamente ognuno ha diritto alla propria posizione e queste erano le vostre opinioni nei confronti dei terzini e dei centrocampisti veramente il reparto oddio che c'ho male anche solo a parlarne siamo pronti per il prossimo episodio che riguarderà gli attaccanti il quadrato l'ho messo qua perché comunque tante volte l'abbiamo visto lì poi non so se l'anno prossimo verrà utilizzato la terzina oppure no ve lo dico subito ci saranno tantissimi attaccanti perché la Juventus è all'interno della rosa ne ha veramente tanti se volete vedere il prima possibile il nuovo episodio di vendiamo teniamo sapete cosa fare commenti mi piace condivisioni opinioni voglio sapere tutto grazie a tutti